Si era da poco trasferita con la famiglia nella retino e si era persa per tornare a casa da scuola. A ritrovare e salvare la ragazzina, fortunatamente la polizia di Stato. L'allarme era partito attorno alle 15 quando sulla linea dell'emergenza 112 era arrivata la richiesta di aiuto da parte di un padre estremamente preoccupato per il mancato rientro a casa dopo la scuola della figlia di soli 14 anni. I genitori inoltre non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con la ragazza, dato che il suo cellulare risultava spento. Due equipaggi della polizia di Stato hanno così diramato la nota di ricerca a tutte le altre forze dell'ordine presenti sul territorio ed hanno iniziato a perlustrare tutto il tratto percorso dall'autobus che avrebbe dovuto prendere la 14enne per rientrare alla sua abitazione. La ragazzina è stata ritrovata a pieve al topo che camminava lungo la strada in forte stato di agitazione. Gli agenti, dopo aver accertato lo stato di salute della minore, hanno appurato che si trattava proprio della 14enne e l'hanno accompagnata presso gli uffici della questura di Arezzo dove c'era il padre ad attenderla.